Mi sa che anche oggi Argentina non ci sarà. Ah, dobbiamo proprio farci dire che cosa. Non può continuare a stare a casa. Rischia di stare bocciata per le assenze. Già, non è proprio giusto. Ok, hai capito che cosa devi dire? Adesso gli diciamo che Alex ha tradito Argentina. Lo so, non è facile per te, ma dobbiamo dirglielo. Non possiamo essere all'oscuro, ok? Approfittiamo e gli diciamo adesso che sicuramente Argentina non ci sarà e probabilmente neanche Alex. Va bene, ma glielo dici te? Io davvero non ce la faccio. Va bene, vieni, andiamo. Ciao ragazzi. Oh, ciao ragazzi. Oh, neanche oggi c'è Argentina. Ma manca anche Alex o è solo in ritardo? No, penso che mancherà. Come mai? Perché è successa una cosa brutta. Ma che cosa ha Danny? Eh, ve lo dico, riguarda Alex e anche Argentina. Vi dico il motivo per cui manca da tanti giorni. Oh, finalmente, ti prego, dillo. Quel falso di Alex ha tradito Argentina con Anastasia. Eh? Ma cosa stai dicendo? Perché lo pensi? Cioè, ma hai delle prove? Oh, certo che le prove. L'altro giorno io, Danny e Argentina stavamo tornando a casa e abbiamo visto Alex parlare con Anastasia e già lì ho detto ad Argentina, dai, cambiamo strada perché so che ti dà fastidio che stanno insieme. E Argentina va e gli dice, ah, tanto lo so che mi hai tradito e se ne va. E noi sconvolti? Cioè, Argentina sapeva tutto e non ci aveva detto niente. E poi Alex proprio non me l'aspettavo. Già, me lo immaginavo una persona diversa e adesso è Argentina e è a casa triste da giorni. Ma io sono scioccata. Ma dobbiamo andare subito da Argentina. Sì, oggi subito a casa sua. Subito. Dopo scuola, casa di Argentina e Danny. Ok, eccoci qui e niente, gli diciamo che sappiamo tutto. Ovvio, vai, apri. E spero che a tua madre non dispiace che veniamo qui spesso. No, no, anzi, è felice che cerchiamo di aiutare l'Argentina. Dai, venite. Voi aspettatemi qui, la faccio venire qua così parliamo con più calma. Va bene. Argentina? Vattene, Danny, lo sai che non voglio parlare con nessuno. No, mi dispiace, ma dobbiamo parlare di una cosa seria. Già, Argentina, vieni, siamo qui tutti ad aspettarti. Hai fatto di nuovo venire gli altri, lo sai che non voglio vedere nessuno. Eh, e ti sembra normale che non vuoi vedere i tuoi amici, neanche il tuo fratello? Dai, vieni a parlare. Sappiamo una cosa. Va bene, ma una cosa veloce. Sa che cosa volete? Sappiamo che Alex ti ha tradito con Anastasia. Cosa? L'avete detto a tutti? Ma perché? Ma come perché? Dobbiamo aiutarti. Noi siamo tuoi amici e io sono tuo fratello, dobbiamo saperlo. Ma, ma no, 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 non mi piace. Ma, ma cosa? Ti vogliamo aiutare. Già, perché sei arrabbiata con noi? Perché sono problemi miei, non voglio scaricare questo peso su di voi. Ma dai, Argentina, a te non sei un peso e non puoi affrontare un tradimento da sola. Perché non ce l'hai detto? Per come ho detto, non voglio darvi questo pastiglio. Non so affrontarlo io, figuratevi voi, la cosa riguarda me. Voi non c'entrate niente. Alex non si è nemmeno indegnato di presentarsi qui per parlare nulla di nulla. Alex per adesso lascialo stare. Intanto cerchiamo di risolvere questo. Non si può risolvere niente, mi ha tradito, basta. E non sarete venuti qui per farmelo perdonare. No, poi bisogna capire, magari non l'ha affatto con cattiveria. Mi sa che ha ragione Argentina. E già. Beh, io non voglio di parlare di niente. Ciao. Argentina, dai! Non abbiamo di nuovo risolto niente. A questo punto direi di andare a parlare con Alex. Magari abbiamo frainteso. Beh, anche se è molto difficile, ma... Ok, andiamo a parlare con lui. Forza. Ah, adesso ti batto Alex. Ehm, sì, sì. Oggi Alex è un po' strano, mi sembra un po' distratto. Sì, non è proprio attivo come al solito. Boh, sarà solo un po' stanco tutto qui. Alex, dobbiamo parlare, subito. Ragazzi, cosa ci fate qui? Dobbiamo parlarti del tradimento di Argentina. Forza, vieni con noi. Ehm, no, no. E invece sì, ora tu vieni con noi. Bene, ora siamo a casa tua. Dici, perché hai deciso di tradire Argentina? È proprio con Anastasia. Ci lavori. Insomma, dai, stai lavorando per il bambino tuo di Argentina. Come ti permetti di tradirla? Già, soprattutto pensavo fossi una persona diversa. Tradire non è un errore, è una scelta. E tu hai scelto di tradire Argentina. Oh, me ne state facendo una fiera. Giulia, Danny, se l'altro giorno mi avesse ascoltato, non avremmo fatto questa polemica in cui coinvolgere tutti. Allora, io adesso vi spiego tutto. Continua. Stelline, l'episodio finisce qui. Ebbene sì, è tornato Avatar World. O è venuto, per chi mi segue da poco e non ha visto gli scorsi episodi. Sì, già un po' di tempo fa lo usavo, però poi avevo avuto dei problemi. Insomma, non si ridava ancora. E certi capelli non si cambiavano i colori. Poi adesso c'è stato un bel aggiornamento. Allora ho detto, vedi, lo riuso di nuovo. E ditemi nei commenti se vi piace. Iscriviti al canale, che dobbiamo arrivare ai mille iscritti per fare le live. Lasciate like al video e ditemi anche cosa ne pensate dei personaggi. Li ho vestiti uguali come su Tokaward. Ho fatto di meglio, come c'era. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!